Musica 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 Si Apparis Musica Ah, a chi è qui? Noi. Daigi è stato un giorno. Perché? Un po' È stato un po' Stano? Ah? Ah, hanno fatto l'anno? Ha fatto. Tornato. Noi. Ok. Abbiamo qui. Abbiamo qui. Abbiamo qui. Non si no. Non si no. Ma non si no. Ma non si no. Nessuno si no. Abbiamo. 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 Abbiamo, hai fatto ogni pausa. Allora, è quello che vi ho fatto. C'è un po' di Deky? Siamo? Dì, sicuramente l'uomo di Deky. Sì, sì. Spicci ancora, prima di inizio. No, se non ci sia inizio. C'è un po' di inizio. C'è un po' di sì. Sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti